Aveva aggredito a bottigliate la compagna e la figlia minorenne nel giorno di una festa paesana. Adesso è stato rintracciato in provincia di Verona ed arrestato in manette così finito un uomo di origine nigeriana con precedenti penali alle spalle. L'episodio risale allo scorso agosto in occasione della festa del perdono di Montevarchi. Quella notte l'uomo al culmine di una lite che si era consumata tra le mura domestiche aveva aggredito con dei pezzi di vetro di una bottiglia rotta la compagna colpendola e ferendola. Poi aveva colpito anche la figlia minorenne che aveva tentato di difendere la madre. L'uomo infine si era dato alla fuga per le vie del centro di Montevarchi mentre le due vittime in strada chiedevano soccorso. Le due donne erano state così medicate l'aggressore subito trovato e denunciato dai carabinieri di Montevarchi. Nei giorni scorsi il tribunale di Arezzo ha disposto per lui la custodia cautelare in carcere che è stata eseguita ieri. L'uomo infatti nel frattempo si era allontanato dalla provincia di Arezzo ma è stato scoperto ed arrestato.